ragazzi siamo sul secondo episodio ragazzi il primo episodio non era stato male era stato bene questo episodio invece ha la febbre arrivato christian che dice sta cosa ragazzi voi direte vi direte ma perché non gioca con la webcam perché non gioca con la webcam Gabriele non gioca con la webcam vabbè come cavolo si chiama perché mi viene male a giocare perdere i trofei e ragazzi farei tutte queste tussiste come dire io ti apro la tassa facci tu oh mi ha aiutato un po' quella di là e come cavolo si chiama shelly macci bravo dai è così ragazzi nuovo team nell'anno siamo troppo potenti no vabbè mi diverto con tutti ma una maggio un po' di più ma di poco con te perché sei tu che mi fai fare i video me lo dici tu me lo dice lui ragazzi fai un video fai un video cioè dice sempre fai un video Gabri fai un video Gabri ecco prima di fare il primo episodio appena abbiamo finito ho detto Gabri vuoi fare un video cioè prima di fare l'episodio abbiamo fatto una partita eh Gabri vuoi fare una un video ma io non gli ho detto niente ve lo giuro non ci credo non ci credo una coppa per Dana Mike per il grado 13 no Gigi Mance ragazzi due coppe per le 3.800 due no Gigi Mance arriviamo terzi arriviamo terzi fidati arriviamo terzi fidati ok arriviamo terzi per favore tagli 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 tag Maronna tu Carms, madonna, non ci credo, ragazzi non ci credo, bravo no, bravo no, ho aperto il muro così, bravo, bravo, camperiamo, 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 non me ne frega niente, per arrivare terzi dobbiamo camperare, un team deve morire, un team, dai, potrebbe morire sto team, dai, no, 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 dai, suicidati, suicidati, siamo terzi, suicidati, voglio arrivare terzo, voglio arrivare terzo, non me ne frega niente, dai, io mi suicido, già che ero morto da solo, ero morto da solo, quindi, ragazzi, Dano è che a grado 13, ma però mi manca una coppa per le 3.800, Gabriele, guarda, guarda, 3.799, ecco perché voleva arrivare terzo, guarda, 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 guarda ragazzi ci vediamo in partita ragazzi una bella vittoria ci sta 3600 3.800 coppe questi punti ragazzi vi ricordo se avete bruce house di entrare nel team gabri e manu così mille coppe necessarie entrate ragazzi ci vediamo al terzo al free episodio